Una proposta di matrimonio originale e inaspettata per la professoressa in classe e in collaborazione con tutti i suoi alunni. È diventata virale la proposta di matrimonio ricevuta dalla professoressa di una scuola superiore di Peschici in Puglia. Mentre la prof era dietro la cattedra ignara di tutto, i ragazzi hanno cominciato ad alzarsi e avvicinarsi uno ad uno a lei per purgerle un fiore. In sottofondo la canzone, quel posto non c'è Danny Gramaro. Lei imbarazzata sorride, forse non capisce o pensa ad uno scherzo. Alla fine però in classe entra proprio lui, il suo compagno che si avvicina, le porge un mazzo di rose, si inginocchia porgendole l'anello e chiedendole vuoi sposarmi? La professoressa si commuove, è emozionata e annoisce. I ragazzi applaudono e qualcuno urla viva gli sposi. Il video postato dagli alunni fa il giro del web. I due futuri sposi sono fidanzati da 12 anni, si sono conosciuti al lavoro perché in servizio nella stessa scuola. Il video postato dagli alunni fa il viro del web. I due futuri sposi sono fidanzati da 12 anni, si sono conosciuti al lavoro perché in servizio nella stessa scuola, si sono conosciuti al lavoro perché in servizio nella stessa scuola. Il video postato dagli alunni fa... Grazie a tutti.